La biomeccanica che cos'è? È una tecnica per imparare a padroneggiare la condizione di disequilibrio, eliminare tutti i gesti periferici e fare in modo che ogni movimento del corpo venga governato dal baricentro. Perché c'è una biomeccanica del corpo fisico e c'è anche una biomeccanica del corpo emotivo e c'è anche una biomeccanica del corpo mentale. Tutto è biomeccanica se è la ricerca della coincidenza degli opposti, nel momento in cui portato all'estremo qualcosa si tramuta, rivela il suo contrario e nel momento in cui si rivela il contrario attraverso l'estremizzazione, lì si rivela qualche cosa che, lo dico solo alla fine di questa conversazione perché è una parola trappola, si rivela la vita. L'attore interessante ti fa vedere la vita. Magari sta facendo Amleto o sta facendo un personaggio del tutto secondario, tragico, comico, ma se è interessante ti fa vedere qualcosa che è l'unica cosa veramente interessante da guardare, la vita in vita. Grazie.